Vi presentiamo Edoardo, 34 anni. Le sue passioni, lo sport, il cinema e soprattutto i ristoranti. Ecco, ha appena prenotato un tavolo nella sua trattoria preferita. Peccato che ha dimenticato di aver già preso altri impegni e che quindi non potrà andarci. E se non avviserà il ristorante, farà quello che in gergo si chiama un no-show. D'altra parte, nessuno ama essere piantato in asso e il nostro Edo lo sa bene. Ne ha avuto prova proprio ieri durante la lezione di Zumba. Sì, Edo adora abbandonarsi ai ritmi latini della Zumba. Ma il suo insegnante Pachito ha dimenticato di avvisarlo che la lezione era cancellata. Un no-show in piena regola. Poco più tardi, stessa storia. Edo ha organizzato una cenetta romantica. Intimo bistrò, luci soffuse, champagne. Insomma, finalmente un momento da dedicare alla coppia. Peccato che la fidanzata gli ha dato buca senza avvisare. Un altro no-show. Morale? Capita di avere un contrattempo e dover cambiare programma. L'importante è avvisare in anticipo. Con un semplice gesto, Edoardo può evitare che il ristorante rimanga con un tavolo vuoto per la serata e permetterà ad altri clienti di prenotarlo. Per questo motivo, come nel caso di Edo, se anche tu decidi di cambiare programma, non dimenticare di avvisare il ristorante. Grazie.